Abram Yoshua, il grande scrittore israeliano, torna in libreria con un romanzo appena pubblicato in Israele e subito puntualmente tradotto da Einaudi. Si intitola Il Tunnel. Abram Yoshua è uno dei maggiori scrittori israeliani viventi, ma uno dei maggiori scrittori viventi al mondo. Questo romanzo è un romanzo strano che presenta una storia come tutte le storie di Yoshua a Vincente. Il protagonista è un 72enne, un ingegnere che è in pensione da qualche anno, ma prima di andare in pensione era capo della progettazione delle strade, ponti e gallerie dello Stato di Israele, quindi un ingegnere importante. È sposato con una donna un po' più giovane di lui, prossimo alla pensione, ma ancora primaria di pediatria in un ospedale di Tel Aviv. Questa copia va un giorno dal neurologo, perché lui ha qualche problema, il neurologo fa vedere delle radiografie del cervello, una macchina di qua, una macchina di là, e gli dice con un po' di delicatezza, ma senza mezzi termini, che c'è una visaglia, un inizio di possibile demenza che capiterà, insomma, sta per cominciare lentamente la manifestazione di una malattia e lui se ne vanno a casa un po' sgomenti e subito architettano piccoli sotterfugi, invenzioni, soluzioni per cercare di parare questo colpo, tanto più che il neurologo ha detto loro, sapete, di fronte a una malattia simile del cervello, la mente può lottare contro il cervello, in che senso, chiede lui il protagonista, l'ingegnere Zvi Luria, così si chiama, e il medico risponde, nel senso che la mente può usare la volontà, l'immaginazione, l'esercizio, l'allenamento, fate cose, insomma, e sul consiglio della moglie, allora, questo ingegnere Zvi Luria decide di tornare a fare un po' il consulente senza essere pagato sul suo posto di lavoro, lui è un ingegnere di prestigio, la consulenza per la progettazione per esempio di una strada segreta militare che va nel deserto del Negev e attraversa anche l'amplissimo spazio di un cratere. La forza di questo romanzo sta nel racconto minuzioso delle prime avvisaglie di questa malattia, le dimenticanze, le piccole soluzioni, ma c'è anche la grande tenerezza complice in questa coppia, dove lei si occupa molto di lui, questa dottoressa, ma lui poi si occupa di lei quando lei ha le piccole malattie, gli acciacchi, c'è questo doppio piano, la tenerissima vita a due di fronte alla visaglia di questa malattia che di per sé fa paura, ma la si può vivere anche guardandola in faccia, insomma, con intelligenza, e poi anche un po' il mistero, anche un po' simbolico di natura psicoanalitica che come sempre sa fare Yoshua, questa strada segreta progettata per il deserto, si sa dove parte, non si sa dove arriva, sembra una metafora della vita. Un grande scrittore per un bel romanzo, tunnel di Abraham Yoshua, edito da Einaudi.